Buongiorno, allora, oggi è prestissimo, cioè io sto ancora in pigiama, non ho rifatto un letto, non ho rifatto niente, e sono le 7 e un quarto, mi prendo il mio caffè e attacco subito a studiare, così studio tipo fino alle 8 e un quarto, poi mi preparo che vado a fare colazione con Tiziana, penso che in questo frangente registrerò uno studio di me, insomma che metterò online poi. Alla prossima 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 Buongiorno, buongiorno. 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 Grazie a tutti 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 Mi sono fatta un frullatozzo Non si vede manco perché questa videocamera ha dei problemi a mettere a fuoco Non capisco perché Quindi adesso mi vedevo il mio frullato E nel frattempo riprendo a studiare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti